E' molto importante e l'importanza l'abbiamo capita andando a Kiev qualche tempo fa e parlando con tutte le forze politiche perché in Ucraina è esplosa una grande rivoluzione liberale. Poi dentro questa rivoluzione c'erano i materiali politici e culturali più vari. C'era pure una piccola minoranza di estrema destra ma la propaganda russa fa la solita mistificazione quando parla dei nazisti di Kiev perché poi si sono fatte le elezioni e si è visto che l'estrema destra di Kiev è molto minoritaria. Quindi di fronte al fatto che molto spesso, lo dico paradossalmente, esplodono nel mondo dei movimenti autoritari, reazionari, liberali, populisti e così via il fatto che in Ucraina è esploso contro quello che era il Quisling russo dell'epoca, Iakunovic, è esplosa una rivolta liberale e io la reputo una cosa di grandissima importanza e di grandissimo rilievo. E di conseguenza quando leggendo i giornali ho letto che al Festival di Cannes, oltre ai film, c'era stata la presentazione di questo documentario che è un documentario corposo perché dura più di due ore, ebbene mi sono subito detto che la forza delle immagini, della documentazione avrebbe prevalso sulle rappresentazioni della propaganda e quindi ci siamo messi alla caccia del regista per poterlo avere. È una questione che si trascina da mesi, finalmente lo abbiamo qua in Italia, questa è la prima iniziativa, poi credo che ci sia una presentazione ufficiale del documentario, se non sbaglio, a Firenze. E quindi reputo un dato molto positivo questo.